Benvenuto e grigio ascoltatore. Hai il sogno di creare una startup e non sai come fare? Sei in cerca di finanziamenti per concretizzare la tua impresa e ti hanno richiesto un business plan? Sei a zero e vorresti essere ispirato per rendere sexy la tua idea di impresa? Beh, complimenti, sei arrivato nel posto giusto. Spero che tu abbia già letto il mio precedente libro sui business online perché questa ne è la ovvia prosecuzione. Ho condiviso tante idee, ben 100 opportunità differenti, ho permesso di costituirti delle rendite e durature ed ora vorresti realizzare il sogno della tua vita, creare una startup. Ero anch'io nei tuoi panni finché ho studiato un sistema internazionale ed ho realizzato questa guida essenziale all'espansione della tua azienda, minimizzando l'esposizione ai rischi. La mia mission è quella di farti evitare le decine di errori che ho compiuto lungo il tragitto da investitore a startupper per farti arrivare molto prima al tuo obiettivo che credo sia simile al mio, cioè la pagamento e la totale soddisfazione personale. So a cosa stai pensando, perché acquistare proprio questo libro? Perché a differenza di tanti altri simili tra loro in questo percorso troverai i 10 passi essenziali alla costituzione di un business plan? I tre miei allegati gratuiti ed inclusi per farti passare all'azione vera dopo un minimo di teoria. Come attingere a qualsiasi tipo di finanziamento? Come partire dal perché e da un'indagine di mercato per evitare sprechi di tempo e risorse inutili? Come focalizzarsi sul progetto e avere un forte mindset per evitare il fallimento? Perché scegliere proprio una startup con i suoi molteplici benefici e come differenziarsi rispetto alla concorrenza? Padroneggiare il potere sempre crescente di un valido e moderno e pratico piano di marketing? Come comporre un team vincente e come costituire l'impresa a costo zero grazie a tecniche modernissime? Quindi se vuoi davvero imparare un sistema passo dopo passo per creare business plan sexy e vincenti per terzi? Realizzare una startup che possa davvero renderti indipendente ed essere finalmente orgoglioso di te stesso? Allora fidati di me e delle mie molteplici recensioni. Non devi fare altro che andare su Audible, Amazon o Google per scaricare questo pregevole percorso. Non mi rimane altro che augurarti un buon ascolto. Ciao da Tony di investosudime.com